Sai quale è l'unica cosa del porco che si butta? No, quale? Il pane! Fenomeno del web con i suoi finti trailer e milioni di visualizzazioni su YouTube, personaggio TV con la gialappas e con la serie Mario su MTV, Maccio Cappatonda, nome d'arte di Marcello Macchia, debutta al cinema con il suo primo film, Italiano Medio, di cui il regista, sceneggiatore e interprete del protagonista e non solo, insieme agli amici Luigi Luciano, ovvero Herbert Ballerina, e Enrico Venti in arte Ivo Avido. Il film racconta di Giulio Verme, ambientalista anche troppo convinto con un topo vegano di nome Chioto, incompreso da tutti, disgustato dal mondo che lo circonda, dalla TV, dagli sprechi, dagli italiani insomma. Anche la sua battaglia con un gruppo di ambientalisti come lui, al grido di Mo Basta, si rivela un fallimento e in preda alla depressione si affide un vecchio compagno di scuola che ha il rimedio, una pillola miracolosa che gli farà usare solo il 2% delle sue capacità mentali, trasformandolo nell'italiano medio, tutto donne, sesso, vizi e poi persino in un VIP. Maccio Cappatonda racconta. Io mi rivedo in tutte e due perché sono proprio quello che racconto, è proprio la dicotomia, la contraddizione che vedo in giro ma che soprattutto vedo su me stesso, cioè di una persona che oscilla tra la voglia di cambiare questo paese, questo sistema di questa visione del mondo, questi meccanismi così, e quindi impegnarsi socialmente anche nell'ambiente così, e la voglia di non fare assolutamente nulla e fregarsene e pensare solo al proprio ego e ai vizi. Ma chi è questo italiano medio per Maccio Cappatonda e Herbert Ballerina? È furbo l'italiano, cioè vuole tenere un po' le mani in pasta dappertutto. Le mani in pappa. È una persona multitasking, anche se sono vuote, spesso. Probabilmente io sono un italiano medio, lui un italiano medio, siamo tutti un po' italiani medi.